Ma è andato bene, io sono molto soddisfatto nel senso che comunque è stato un Sanremo importante dove ci sono state tante belle canzoni, è stato un onore per me farne parte, insomma è stato bello, poi sono venuti tanti amici da varie parti d'Italia a sostenermi, avevo una squadra meravigliosa intorno a me, quindi sono molto soddisfatto ed è stato bello poterlo condividere con le persone alle quali vi voglio bene. La musica non avrebbe senso se non fosse fatta di condivisione, quindi sono felice di come è andata a finire. Sì, diciamo che ogni volta che salivo sul palco per me era come cantare quel brano per l'ultima volta e ho messo il cuore in quello che facevo cercando anche di portare rispetto a quel palco che insomma comunque è un palco importante e che secondo me va comunque vissuto in una maniera rispettosa ecco nel senso che comunque è un palco dove sono passati tanti grandi artisti e dove comunque si sono scritte tante pagine della musica italiana e quindi diciamo che ogni volta che salivo lì per me era un grande onore, lo è stato ancora di più quando sono salito con Edoardo, insomma è stato un viaggio bello, io devo ringraziare comunque la vita per le occasioni che mi regala e che mi dà la possibilità di vivere e devo ringraziare forse in parte anche me stesso che mi do la possibilità comunque di vivere queste cose perché poi comunque la vita è una questione di scelte e spesso facciamo le scelte sbagliate invece io ho sempre creduto nella musica e continuo a crederci e cerco di fare quello che mi è possibile per far star bene il maggior numero di persone possibile. Sì, sicuramente il brano è un brano che io ho molto a cuore perché insomma è nato da un'idea di Riccardo che comunque è un grande amico e diciamo abbiamo lavorato intensamente per far sì di poterlo cantare bene su quel palco di poterlo cantare come meritava di essere cantato quindi sicuramente questo brano è l'anticipazione di un percorso che ho avuto il piacere di fare in questi ultimi tre anni dove ho creato quello che io considero comunque il mio primo vero disco da aspirante cantautore nel senso che comunque c'è tanto di me all'interno di questo disco c'è tanto anche delle persone che hanno collaborato per realizzarlo c'è proprio un pezzo della nostra vita comunque dai 21 ai 24 anni è un periodo molto importante per ognuno di noi e lo è a maggior ragione per me perché sono stati appunto tre anni di grande ricerca di grande sacrificio dove ho cercato di esprimere al 100% quello che sono io oggi e credo di esserci riuscito cioè nel senso comunque è un album importante dove c'è un concept album appunto improntato sul concetto di fiabba tante elaborazioni delle grafiche che disegnate da Geek School che è un artista sudafricano le collaborazioni che passano dall'Inghilterra all'India poi ci sta appunto la collaborazione con Edoardo che per me è un maestro è una luce un faro illuminante lui è sempre stato con la sua musica e adesso anche con la sua persona nella mia vita ci sono le collaborazioni con Riccardo dei Pinguini ci sta un pezzo scritto da Lodo Guensi che comunque è il froden di un gruppo che ti chiamo tanto che è lo Stato Sociale è un progetto di amici nato da tre amici in realtà perché poi in realtà è tutto nato da me Matteo Costanza e Giuseppe Taccini che poi si sono permessi di colorare il mondo intorno a loro di presenze che comunque hanno reso questo viaggio secondo me credibile e all'altezza diciamo di quello che si annuncia di essere cioè un album se vogliamo nel mio piccolo anche un po' di rottura perché poi comunque ci sono dei generi musicali molto diversi rispetto a quelli che si sentono in Italia perché c'è l'alternative pop ispirato alle sonorità di Bon Iver ci sta la World Music con Fili dei Fiori che comunque è un concetto di musica che appartiene di più ad artisti comunque angolo-americani ecco però diciamo che sono riuscito a fare quello che sognavo di fare che era appunto mischiare il cantadorato italiano a delle sonorità tipicamente angolo-americane e poi ho collaborato con questa band Will and the People di Londra che mi hanno dato secondo me credibilità anche in un brano in un'altra lingua che è appunto l'inglese io scrivo in inglese anche però diciamo ho avuto il piacere di essere affiancato da questa band che comunque ha una lunga carriera a palle e che insomma mi ha accolto in casa loro è stato un po' un film per me vivere quell'esperienza sono stato a casa loro dieci giorni nelle campagne di Londra a fare solo musica lontani da tutto nel nulla più totale e loro mi insegnavano appunto a pronunciare bene le parole per far sì che potesse suonare esattamente british e poi io ho scritto il ritornello, Jamie ha scritto le strofe e in un'ora è nata questa canzone che insomma una volta che è nata ci siamo messi a piangere perché è un brano che insomma racconta di una relazione che è finita e che non c'è più e che di una persona che comunque fatica ad andare avanti perché nei binari, nelle strade vede soltanto quella luce che però non esiste più e che quindi è difficile sopravvivere senza appunto e quindi quella è una cosa che comunque abbiamo vissuto entrambi ed è stato bello poter scrivere questo brano e mi ha emozionato tanto quando poi ci siamo rincontrati perché noi ci incontriamo spesso in questo festival a Norcia che avviene tutti gli anni a Tempinas Festival ed era il luogo dove ci siamo conosciuti poi loro hanno risuonato aver incontrato Jamie insomma è uno dei brani che lo emozionano di più e a me mi fa tanto piacere perché insomma Jamie è un frontman ed è un cantautore inglese fortissimo che secondo me ha tanto da comunicare e questo brano è un brano che a me mi fa veramente piangere ogni volta che lo ascolto perché è molto sincero cioè dell'album diciamo i tre brani più sinceri in assoluto proprio quelli che sono nati proprio in un battito d'occhi è proprio sono Figli dei Fiori, Without You e Caro Lucio cioè sono tre brani che secondo me sono tre piccole perle diciamo del disco che magari non saranno dei singoli ma sono comunque dei brani che a me mi fanno sentire meno solo ogni volta che li canto e spero possa fare lo stesso effetto sulle persone che lo ascolteranno è un impegno secondo me etico nel senso che è vero sì le persone, tutti noi, io compreso siamo tutti molto più distratti da questa società che va molto veloce ed è molto difficile dedicare del tempo il disco penso duri almeno un'ora forse 40 minuti però comunque è difficile dedicare 40 minuti della propria vita e con attenzione ascoltare un disco però comunque la musica non si fa per farla ascoltare a centinaia di migliaia di persone nel senso che il numero è una cosa relativa l'importante è testimoniare e dire che noi ci siamo che siamo qui, che siamo pronti comunque a far sentire le persone meno sole cioè penso alla soddisfazione più bella e più grande sia quando attraverso la musica riesci a far sentire le persone meno sole perché si immedesimano in quello che scrivi ma anche semplicemente a me piace pensarlo anche semplicemente il modo in cui lo fai ecco l'attenzione e la dedizione che è stata dedicata a questo disco è in sé musica perché è veramente nato da un sentimento sincero di tre amici che stavano sotto a un letto a castello a scrivere della musica e chiudendo gli occhi si immaginavano di poter cantare e suonare queste canzoni davanti a uno stadio stracolmo e la musica ti fa sognare ti fa uscire dalle mura dalle quattro mura in mezzo alle quali stai creando quella melodia e quindi ci immaginavamo di come un giorno quella musica potesse arrivare ai cuori delle persone e stravolgerle e stravolgergli la giornata e io anche se arriverà a dieci persone io sono felice perché perché significa che comunque qualcosa qualcosa qualche valore ce l'ha quello che facciamo e sarebbe un peccato se non se non lo fosse perché in realtà c'è veramente un grande amore dietro a a tutto questo però sicuramente non mi farebbe stare male nel senso che veramente il sentimento è così sincero quello tra noi tre tra me Giuseppe e Matteo l'amore che abbiamo veramente messo le lacrime che abbiamo versato le paure che abbiamo condiviso è una cosa per la quale vale la pena vivere sì infatti si chiama la strada per la carta non a caso nel senso che ascoltare il disco ti porta comunque a viaggiare con l'immaginazione e non è importante raggiungere quella meta nel senso l'importante è il percorso che si fa e all'interno di ogni ogni brano c'è un piccolo pezzo di percorso che ho fatto che ho percorso con queste persone e quindi in realtà il messaggio principale è quello di tornare a dialogare tra generazioni senza aver paura di di non assomigliare a quello che va oggi di moda perché attraverso il dialogo attraverso appunto il confronto tra generazioni e anche tra tra persone insomma si può raggiungere veramente la felicità e si può rendere il mondo un posto migliore non a caso l'ultimo brano quello che chiude figli dei fiori che peraltro è la collaborazione con Raul Campbell che è appunto questo artista indiano che io ho conosciuto nella mia Olamagna a scuola è un brano che parla appunto di la possibilità di ripartire tutti insieme perché se ci proviamo insieme un giorno magari il mondo sarà un posto migliore non è sicuro però almeno ci dobbiamo provare perché è dalle cose che si fanno insieme che può nascere il cambiamento al futuro sì esattamente anche i bambini per me sono importanti il concetto di infanzia in realtà appare spesso in realtà nei miei testi mi viene in mente la mia libertà ma anche i figli dei fiori quando parlo di mia mamma che mi raccontava dei più grandi eroi quando stavo per addormentarmi i ricordi dell'infanzia sono molto presenti perché io credo che comunque i bambini siano la cosa più preziosa che dobbiamo proteggere perché io ho tanta preoccupazione nei confronti di quei bambini che nascono in mezzo alle guerre che nascono in mezzo alla fame perché i bambini sono la cosa più pura che esista e se crescono conoscendo il mondo in un'ottica sbagliata rischiano poi di trasformarsi in quella cosa invece il bambino che è in noi è da proteggere e tutti noi dovremmo impegnarci per far sì che questi bambini possano crescere in un mondo migliore anche per dargli un buon esempio perché poi comunque insomma a un certo punto ce ne andiamo tutti quanti quindi la vita è un po' una staffetta bisogna aiutarsi aiutare chi sta arrivando e lasciare diciamo la stanza come l'abbiamo trovata grazie a tutti